Grazie mille Presidente, anche io a nome del Movimento 5 Stelle intervengo per unirmi alla proposta, all'iniziativa in sostegno di quello che sta succedendo in queste ore e per condannare assolutamente tutti gli atti di violenza che stiamo osservando sui social, sui giornali e su tutte le maggiori notizie, sui miliziari e quindi per unirci anche noi a questa mozione, a questa iniziativa affinché appunto per portare anche noi, anche a nome del Movimento 5 Stelle e anche e soprattutto, come ha detto bene il consigliere Peronzi, a nome di… Mi scusi consigliere Arduo, ho disattivato… Sì, ho notato, non vorrei presentire l'intervento, va bene, non c'è problema e insomma dicevamo anche noi per unirci all'iniziativa dei colleghi e soprattutto non per portare la nostra vicinanza sia come il Movimento 5 Stelle ma come ha detto giustamente il consigliere Peronzi per portare la nostra vicinanza come Romani a chi in queste ore sta soffrendo. Grazie mille Presidente.